Assassin's Creed 6 DLC 3 parte 36 Allora È rimasto che Proviamo ad andare qui Visto che è la seconda visione del custode Che forse ora ho la conoscenza arancione adatta sufficiente per raggiungerla Dopodiché la terza Quanto dici dovrebbe essere qui una a nord, una a sud ovest, una a sud est Quindi quella presa Questa Che era qui L'ho presa, ora è sparita Un'altra dovrebbe essere qui E la terza a nord Non ci piove Quassù funziona osi la osa Allora viena, vado a vedere Se c'è Vado a vedere se c'è C'è, c'è Se ci posso interagire Qui Non mi interessa Passo dove capita Ovvero così Per il resto ho ripreso il mio cavallo bianco Che in questo stage ci sta bene In questo stage ci sta bene Più di quegli altri Allora Allora Visi come c'è un po' d'acqua Va fatta Eh con la barca Ma la barca è istantanea No la barca non è istantanea La barca Eh devo fare una notata dai No c'è c'è Allora Andiamo Andiamo Speriamo che la conoscenza È sufficiente per Per andare tutto qua Per entrare dentro Vediamo Speriamo che non ci voglia il livello 2 Perché se no Le avrei già trovate Queste tre conoscenze Delle storie Allora Vediamo se mi fa passare O è chiusa Se ci vuole di più No Mi fa passare Mi fa passare Perfetto Allora C'ho qui Che qui è tutto sicuro Eh Qui la conoscenza A livello 1 Ti basta per tutte e tre Perfetto Quindi Faccio tutte e tre La damante Grezzo Questa missione La faccio dopo E Visione del custode Ecco la ora Mi da un po' di più di conoscenza Tanto questo DLC si gioca Così devi alzare tanto la conoscenza Allora Lì è uno Fammi vedere È grossomodo Come quell'altro C'è delle guardie Che c'è Vabbè Le torce Ah C'è un lingotto Scanziono E La visione del custode Un capitano Perché c'è la torcia E non me la segna Vabbè Se c'è la torcia Allerto tutto Facciamo così Guarda Speriamo sia una cosa Veloce Questa l'ho presa Memoria Scanzonata Ok Conoscenza salita Però E Altro 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 Allora Quello era là Quel colosso Prima un po' Lo devo fare fuori Allora Qui c'è altro Però ti vedano Dai Vabbè Io tanto Ma se mi vedano Lo rifo O Hermes La prima volta Cerco di fare pianosi Poi dopo Senz'altro Dal piano di sopra Ti vedano Ti vedano Ops Vediamo se Cristo Quello mi stava vedendo No No Attacco forti No E Però Non posso girare A sinistra Cristo E ora È un gran casino Sì Poi lo faccio Un solito giro Io vado di sopra Ops Se ho lasciato roba Allora Quello lo devo uccidere Vabbè Lì ci vado alla fine Tanto un po' di casino Va fatto E qui Io cerco direttamente Il zucco E però Non è qui Non è qui Non è qui Dovevo essere Non me la segna L'incontro di Adamante Nemmeno qui E qui E qui Guarda Questo sì Questo Questo L'ha fatto fuori Basta Prendi sta roba Eccolo qui L'ingotto di Adamante Allora Nella forza Di Atlantide Nella forza Di Atlantide L'ho trovata Allora Allora io ho fatto Zero casino Per ora Ora sì Vado a prendere Anche il capitano A meglio Vabbè Se mi vedano È allarme rosso Se mi vedano Allora Poi mi manca Basta La visione del custode Il capitano Che so già dove Oh C'è una scansione Vai Vai Conoscenza su Conoscenza su Qui ho finito Però c'era una scansione Bene Bene Vabbè Qui sono saf Sono saf Qui c'è il capitano E vabbè C'è il capitano Capitano non si prende Con l'attacco Si ma non gli fa niente Ti dice E Vabbè Deve entrare lì dentro O come si fa Ora si fa un po' di casino O come si fa Questo ti vede Di spalle Wow Proprio Ho agito Stra bene Proprio Stra stelt Eccoci qua Ora il capitano Vabbè Se lo voglio farlo Madonna C'ho 11 punti abilità Come li spendi Era di Ares Ah Ovviamente c'ho Il potenziamento Era di Ares Fammola vedere Era di Ares E ancora questa No Furia di Ares Non so quale Vabbè Vabbè Roba che Respiro di Ares Non so quale Non so Non mi brilla Niente Non mi brilla Non mi brilla Niente Niente di nuovo Mi brilla Vabbè Dai Se sarà Automatica Sarà Ah ho capito Guarda Quel segno lì Quel segno A croce Dove Croce Croce Questo No Però Eccola 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 Vabbè Anello del caos Ti dice Bomb Ti fa Però Non la uso Anello del caos Tre nemici Eh però Non ho più Lo metto Al posto Del Acquisisco Dai Lo metto Al posto Di questo Fuoco Che Almeno Questo fuoco Tiene Punto Ce l'ho Tre E lo potenzio Con questo Ah bello Astoria Ah gli ho fatto Un cerchio E forse Li rallento Non lo so Vabbè L'ho messo Qui Vabbè Ora se il capitano Lo voglio Fa bene Però Allerto tutti In primis Il colosso Va bene Va bene Da l'ufo E poi Vabbè Allerto Il colosso Pace Preso Stai Stai Così Con il capitano Si Con il capitano Si Va via Basta Basta Se c'è il colosso Non mi interessa Niente ok fortino ho completato io ho scansionato abbastanza ora tutti dietro tutti dietro però lo fai alla fine poi c'è questo bastone che ce l'avevo nell'equipaggiamento e me lo sono messo non è migliore degli altri ma forse fa parte proprio di questa armatura completo di questa armatura allora qui si va così ora posso andare via ma abbarcano abbarcano ora voglio andare a quest'altro visione del custode qui ci arrivo da qui la meta più veloce è qui beh ho fatto veloce strastelt fra poco mi sto lavorando la conoscenza 2 400 e rotti non 600 è quello è quello quindi cavallo alla mano spero cavallo alla mano andiamo ora non capisco mi vengano delle righe su schermo quando si muove la telecamera questa cosa me lo fa da quando gioco a questo terzo di LC prima il gioco andava bene primo secondo di LC andava bene quando gioco quando ho messo a questo terzo di LC mi fa un po' di di righe anomale quando ho sposto la telecamera da su a giù e niente è gioco credo non è da quando è installato questo terzo di LC eccole qua quelle righe eccole qua questa questa prima non le faceva eh lo tengo così ok questo è il terzo c'ho otto punti abilità credo c'è ancora acqua eh c'è acqua c'è acqua lo sapevo lo sapevo eeeh capisco mi fa quelle righe quelle righe costanti costanti da che ho fretta lo prendo così insomma eh non trovo la canoa eh c'era però dai vado la stessa cosa la stessa cosa torno indietro e prende la canoa la stessa strada questo è l'ultimo punto dopo di che ho completato questa l'ultima visione del custode erano tre era lì la barca eh lo so ma io arrivavo di là vabbè c'era un'altra per ritorno ma per ritorno non mi serve perché per ritorno uso il teletrasporto allora questa è la terza se faccio strastelta è meglio se se mi entra è meglio perché non mi dovrebbe entrare ok qui è lo stesso giochino lo stesso giochino vabbè se poi faccio rumore pazienza eh se qui faccio rumore allora ho preso l'abilità che non l'ho ancora provata ma tanto sono tutte buone sono tutte qui lo stesso giochino allora tre tre questo è un colosso guarda se ti dice ammazzami subito è meglio questo è il colosso però quasi quasi questo lo ammazzo tanto se no mi viene a ricercare ops devo stare attenta a dove vado qui avevo visto qualcosa qua vabbè qui è un gran casino non si gioca non si gioca non si gioca qui l'ha chiuso dai preso vai sono già conoscenza 2 allora mi fa vedere dov'è sta roba che non la vedo andiamo tutto su vabbè mi hanno visto vabbè ammazzamoli tutti e ora non c'ho voglia di far stente non c'ho ma la cosa è sempre la stessa qui mi manca un po' di roba voi ti ci mettano il nemico ti ci mettano vabbè ho fatto una scansione il tesoro è sempre qui l'assassinio ah non me lo dà ma che è qua ah eccola questa roba ah le rallenti così prende anche il capitano guarda prende anche il capitano nel mio raggio guarda che strabello sto raggio se ce lo faccio prima hai ce l'ho fatto ce l'ho fatto e dai ho una quanta vita ecco sto pastore dai picchia bene picchia abbastanza bene qui se non lo può quasi non lo vedi avanza a tutti bella questa magia bella questa magia però RT RT vabbè ora devo fare tutti vabbè dai le faccio tutte ho scelito tutto sì è uguale è uguale vabbè bene l'altro ovviamente speriamo tu sei all'ultimo si è fatto a portare tutto il campo su vai ma è lungo 7000 7000 questo non te lo fanno ma perché vabbè ho fatto piazza pulita mi serve questo capitano isu e visione ho fatto fuori proprio tutti da un'allarme allunghi la os vabbè qui via c'è un colosso via di sotto ho finito colosso è forte sai si attiva si attiva se fai un certo tipo di rumore vabbè andiamo dentro qui c'è ancora questo ecco c'è una le storie maio ecco la terza vai ne avrei go ne avrei go sono tre quindi un altro potenziamento per me riesco quasi a sentire i pensieri del bastone chissà se il bastone può sentire i miei punizione di cosmos missione compiuta hai visto 200.000 ho visto 200.000 da quanto era vabbè ora mi serve una scansione isu fammi vedere cosa mi ha dato e mi ha dato visione di cosmo tutta roba questa tiro devastante lo faccio lo assegno a B tanto questa è una freccia lo potenzio al massimo 3 e con quella speciale ok tanto c'ho 5 punti almeno c'ho anche la freccia allora non so quando mi mandi via da questo dlc perché allora devo scansionare ancora una osa dove vuoi se la trovo meglio perché mi serve siccome di sotto è via libera eccolo posso andare anche che senta oh l'ingotto questa finito vai sono quasi a conoscenza 3 un punto abilità ma qui è proprio di regala l'ho completato ok ora mi rimane che finite tutte le visioni dei custodi ancora la conoscenza di livello 3 non ce l'ho però ce l'ho a 2 e mezzo e a 2 e mezzo mi permette di fare tante cose a 2 e mezzo mi permette di fare un bel po' di cose vai allora bello eh missione mi rimane lo ce fu non la fu la da mante grezzo oh crea l'arma leggendaria vabbè quest'armatura è lunga e la conoscenza 3 si mi rimane vai andiamo a fare ora questo qui eh questo non ce l'ho dai c'è una conoscenza c'è una conoscenza un quarto a 3 ce la porto non lo so come con altre missioni allora una conoscenza 3 era nel fortino però è conoscenza 3 c'è ancora queste righe sul schermo e sono apparse da questo dlc e basta e vabbè le tengo perché non si levano andiamo allora ora vabbè 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 se ne fa così dai non voglio arrivare qui non lo so c'è qualche conoscenza no figurati la conoscenza è la scansione un po' da tutte le parti un po' vabbè il posto è là e prima la 280 te lo mette quella roba è troppo lontano dai quello non lo apro non torno qua su non torno qua su se non sono proprio di strada allora l'ultima volta ero non potevo entrare dentro questo fortino perché non avevo conoscenza adatta ora quella icona arancione mi permette di passare qui c'è la missione della donna che che vuole insomma della damante grezzo e ora no non distruggo nessuno vado dritto al solo beh ora passo però Cristo allora le guardie credo che sono dentro il pericolo inizia da dentro non so quanto è lungo non so una torcia di trovare qui è uguale è uguale ma passiamo di qua zona di esplorazione ora mi manda eccoci qua posso entrare dai prima prendo la destra la sinistra e poi la destra c'era la scala non l'ho presa beh stavolta la prendo qui devi ucciderle dai l'ho ucciso l'amante grezzo però non ho oh no il colosso io lo ucciderei prima e lui veda me allora qui non c'è niente però c'è strada ho scansionato tutto quindi le cose importanti sembra che sia qui che immagazzinano l'adamante grezzo dopo averlo estratto ok dovrebbe essere grosso modo per cui qui ti dice che se attivi ora ti vede se attivi ora ti vede vabbè torce ipno 1 2 oh meno male l'ho preso lo vuoi? quel colosso era lontano mi preoccupo ma vero ma ce l'ho fatta ce l'ho fatta eh no qui non è ancora vabbè vai così attorno non c'è più nessuno allora qui ancora non vedo ma c'è gente eh però devo vedere eh questo mi vede aspetta mi abbassi questa non so se era l'altra entrata non so se era la a Cristo o est mi ha fatto veloce da o sta mossa qui allora qui siamo d'accordo qui non vedo però ma c'è un tesoro qui no nemmeno nemmeno eh devo portarlo a Elis oh era lui reagisce in qualche modo al mio bastone è come se si completasse la visione ma era lui l'ho trovato per caso ma per caso ti ha detto che hai finito se vuoi hai finito due tesori me ne può fregare di meno alla diamante qui non so se finisce ancora qui ti riporta fuori dove ti riporta qui c'è il tesoro va bene non l'ho completo tutta qui c'è il tesoro ok ti ha detto ho la diamante per il resto non non scannerizzi niente va bene se ero con l'ultimo capitano ho finito qui va avanti ancora no si finiva qui guarda finiva qui vabbè di là c'è il colosso niente mi mandi via prendiamo la strada opposta allora che intanto era la strada perché questa è qui perché questa è qua qui guarda il capitano cioè dove eri prima siccome è rimasto solo lui da dove cazzo è avvenuto dove cazzo è avvenuto finisco anche la missione guarda combatterlo qui il capitano è forte no l'energia dice abbastanza bene bobo 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 schifio o questa o allora questa è buon mossa sì sì dalle campose ecco il capitano si è presa anche lui questa ho completato va bene andiamocene via cioè da dove cavolo veniva questo ma veniva che la strada per andare via era qui non lo so ma qui c'è i colossi non andiamo a rinficcarci nei casini qui c'è i colossi ce l'ho il teleport per andare via ce l'ho il teleport no ti dice vai via bene da qui guarda no che via qui non ci vai vabbè devi riprendere la strada mi ci fa mi fa andare di teleport via no devi risalire la grotta ho capito e io la risalgo vabbè e dove era veniva da qui si poi ci sono i colossi a destra e a sinistra spenti e invece sono già un prosaglio beh ecco questo non l'avevo fatto però ora mi sono trovato da un'altra parte o è la strada questo è un colosso e se non ci ho combattuto è meglio e questa è la strada anche se non avevo l'ultima volta non avevo non ero scivolato da quel muro basso andiamo c'era io ero arrivato camminando normale c'era quel muro basso da da scivolarci oltre e va bene sì allora questo punto di qua non mi interessa questo punto e anche no figurati qui non c'è da scannerizzare niente poi c'era anche una terza entrata dall'alto c'era una terza entrata dall'alto a cosa mi portava niente mi portava lì ero dai e vediamo quante eh la memoria ce l'ho a due un quarto iso vabbè intanto completo lei e completo lei vediamo cosa mi porta ad amante ad amante grizzo come promesso è bello vedere che non tradisci le aspettative sto facendo la scelta giusta a voler diventare come te però la devo dare è un'arma la devo dare anche alla forza serve ben altro che un'arma di adamante per essere come me beh io non voglio creare un'arma ma un potente manufatto ISO questa continua le righe su schermo me le dà anche i filmati guarda queste cazzo di righe su schermo a metà video che non lo porterò da un abile fabbro perché lo usi per forgiare un manufatto ISO beh se hai bisogno della tua dicaste sai dove trovarla la forgiatura richiede tempo ciò che stiamo per fare cambierà Atlantide irreversibilmente assicurati di adempiere a tutti i tuoi doveri di dicaste prima di raggiungermi alla casa di Atlante questa che vuole allora la missione l'ho completata poi però mi ha detto altro qui non mi parla più vediamo sembra proprio che Atlante abbia ancora bisogno di te grande di casa allora dopo mi dice di fare altro mi dice come c'è fu non mi interessa allora qui c'è la forgia poi mi rimane la conoscenza 3 che è lunga viene da sì allora siccome ho questa armatura online è lunga la foffo line con calma questa è nei fortini misoggi dei capitani sequenza 3 viene nei fortini quella della luce viene quella della luce è una palla assurda la foffo line da spostare la rova c'è da starci un 40 minuti un'ora e qui c'è la conoscenza dove richiede la 3 me lo dice qui ci posso andare un attimo e cerco la forgia che è questa e qui c'è ah viaggio rapido sì sì come l'ho sbloccata ci guardo un attimo non lo so se mi fa creare boh mi dice ce l'ho là davanti necessario necessario ce l'ho ops allora questa è la missione crea un'arma leggendaria la forgia di atlantidi che che allora devo scegliere tra guerriero assassino e arciere beh nel mezzo dovrebbe essere guerriero poi lo stesso guerriero e beh guerriero devo far male o la spada ah perché ora tutti questi lingotti ho capito e un'altra arma ancora sembra di sì bello bella storia questa è ancora più bella oh ma mazza guerriero isu e aspetta allora nuova incisione sbloccata danno corpo a corpo corpo a corpo aspetta che ora mi ha dato recupera i lingotti di adamanti e e questi e questi non ce l'ho ma che arma mi ha dato un'altra inventario l'arma nev è questa guarda mi ha dato questo ma bella però è uguale vabbè la posso incidere come mi pare sento ora la provo e io ho finito così non un'altra vabbè qui che c'ho questa è un'armatura ad anelli sì sì va bene dai il cavallo è voler questo cavallo ce l'ho tutti qui ho finito ora sono alla forza mi fa mappa diciamo che concludo questo non mi dice ci vuole il livello 3 andiamolo a vedere diciamo che concludo il DLC cioè porto al finale del DLC offline perché sono missioni un po' pallose da fare online mi rimangano sì quei tre raggi da sincare da sincronizzare poi mi rimane non so se obbligatorio anche quell'armatura anche quell'armatura da 5 pezzi non so se devo fare tutto per mandarmi via da qui come nel DLC campi elisi oppure se bastano due cose principali come nel mondo 2 diade questo lo vedrò offline dopodichè torno solo torno direttamente con la missione finale e buonanotte questo di LG l'ho giocato l'ho registrato abbastanza due ore filate nella parte precedente due ore di fila più un'altra ora ancora più questa insomma va bene così torno con la parte finale e va bene non si abbiamo questo fortino perché le cose rimaste da fare sono oeste ovvero la conoscenza a livello 3 che è qui sicuro più più da altre parti ancora cioè la conoscenza ora ce l'ho al 2 devo portare al 3 questo qui non mi basta per portarla al 3 però già è un altro passo avanti ma è qui la oso vabbè piena di nemici ok e va bene questa è la mazza nuova eh allora dov'è giù a basso non era nemmeno lì qui c'è un fortino tutto pieno di casino è qui questo il fortino pieno di casino oh no eh si è qui sono questi fortini che uno lo faccio ora uno l'ho fatto nella parte precedente e il resto me lo faccio offline poi torno ah questo è come buono buono beh però sono difficili devo fare attenzione meglio non farsi scoprire scazio uno isu ah i lingotti sono qui uno tre eh ci vuole tre lingotti qui dovrei trovare il secondo e quello è il capitano e si fa per ultimo se ce la fu vabbè se scoppia casino qui gira diverso la usa gira diverso si sta roba ripeto la finisco da solo offline ora questa la faccio un altro fortino non l'ho fatto nella parte precedente poi dai devo uccidere tutti non posso fare stealth qui mi è anche troppo bene un'armatura non era per me non vedo si va ancora giù cristo vabbè tesoro non mi serve ora la tavoletta ah l'arancione dove l'avevo messa l'avevo ci avevo piantato ma qui è finita la cosa qui è finita la cosa se vai giù è peggio meno male il 100% da magia più sparisce eh no dai non la vedo qui non c'è niente c'è roba c'è roba era oi guarda dai vabbè quello era un lingotto ah è qui la conoscenza ora si che ho fatto è tutto il grosso dai c'è cammini altri veloci c'è è è è è è è è è andava bene andava bene oh no mi devo devo scappare ok ok mi ha detto si si la conoscenza l'ho presa però non mi basta scansi una i dati vado avanti sono a 2 e 3 il terzo fortino poi ah beh qui l'ho fatto capitano l'ho fatto e dai se non c'è un colosso se non c'è capitano mi basta quella ma senz'altro tutto sarà nascosto Cristo dove possono essere sti da teso non sono stato di qua e dai ti ho detto che cazzo fu che cazzo fu eh vedi però questo era un tesoro vabbè non trovo la conoscenza nemmeno nemmeno se se mi vedesse solo lui se mi vedessi solo lui è fatta ecco te ne da già un altro vabbè veramente tiro casino a tiro casino perfetto dai vabbè 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 lascia lo aiutero insomma sta volto vabbè si guarda così vabbè si guarda così vanno fatti fuori tutti te ma è perfetto è durata anche il fottuto colosso si fai danno fai danno si però si ho messo stra bene con sta lancia hai visto anche il colosso è sceso subito ho fatto piazza pulita è bene eccoci qua scazio una isu sono quasi a conoscenza 3 quasi 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 a conoscenza 3 quasi a conoscenza 3 mi manca l'ultimo lingotto oh anche qui buono dai ce l'ho quasi fatta essere 3 magari se mi fa chiudere il dlc si l'ultima spinta l'ultima gliela do offline dai lo cerco offline allora lo straga me ne può fregare di meno di dove è lo straga per proseguire lo straga è una tavoletta che lo straga ci sta tutto il giorno lo straga non lo so dove è lo straga stava anche lì sopra e allora niente beh io lo straga ti ringrazio ma vado via allora vediamo sì sì uno uno mi manca il terzo lingotto qui ho fatto vabbè non mi segna luogo completato però ho fatto non ci perdo 20 minuti a trovare lo straga deposito e ora devo vedere deposito qui vado a vedere grossomodo i luoghi iso uno uno perfetto i luoghi li ho fatti tutti se andiamo a vedere qui vai ci vado a vedere ose un po' me ne manca uno in basso e piano piano al dlc sta scorrendo allora indicatore piazzato madonna ste righe che lavoro mi fa allora vediamo che è queste righe mi ha iniziato a darle queste righe sul schermo da questo dlc dall'episodio 3 in poi mi ha dato queste schifezze video quando ho sposto la telecamera ecco vediamo cos'è ci va di qua di sopra e di sopra non ci va casa di un ferro è tutto qui però ti dice di sopra c'era c'era di stato qui vabbè c'è mia niente per me c'è c'è non ci va non ci va non ci va non ci va casa di un ferro cosa ci trovo di sopra ti dice allora 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 dov'è questa roba qui non ci potresti stare qui non ci potresti stare ok qui è pieno di gente non ci potresti vabbè se c'è il colosso, non si me ne frega queste forti le stesse cose, capitano bello il potenziamento, ah proviamolo colpi critici questo è tutto di due che ho fatto? eccoci qua, è meglio questo è meglio qui dentro mi fu di più anche questo pera mia la cosa, da me trova sta questo dai, ormai ci sei anche lì voi va bene qual è la breccia potenziamento ultimo, eccolo il capitano guarda, ho fatto fuori tutto guarda ho il terzo lingotto allora, questo è l'ISU qui ci siamo ISU ecco, dai, a un passo dalla conoscenza 3 punto verità sono un passo dalla conoscenza 3 qui mi da altra conoscenza ho capito ancora niente conoscenza 3 per un soffio non ce la faccio a fare la conoscenza 3 qui, così mi troppo qui era tutto questa roba però l'ho trovata prima torcia hip non ce n'è una terza siccome il posto è tutto qui lo posso anche completà tesoro è qui tesoro è qui e tesoro è qui nevrigo, nevrigo luogo completato casa di anfiere ora trovassi un'altra casa trovassi un'altra casa ovvero devo sperare eeeh questa è casa ma allora in queste case ma io ci sono entrato, non c'era niente archivio andiamo a vedere chi c'è qui poi mi rimane questo queste case allora questa come mai queste case se sono voi le 11 vabbè intanto andiamo a vedere qui qui non ti ci manda non mi fa ancora uscire eh non mi fa ancora uscire oh mi prendi questo ti dici ma è lo stesso perché dai ma qui era per scappare era per lo stesso andiamo a vedere che è questo porto la conoscenza a level 3 in questo modo se non ce la faccio ora lo finisco offline e poi torno solo con l'ultima parte online madonna ste righe andiamo a vedere che è 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 forse un'altra casa un'altra si è un altro guard che è perfetto un'altra casa che mi porta si si è un'altra casa che mi da eh conoscenza isu queste case allora scansi uno perfetto quindi il solito giochino eh vedrai rimangono questi posti che poi ti fa finire tutto il solito giochino la casa è un po' più alta da dove cavolo la posso prendere mmmm si può così accetta questa casa accetta si accetta sono lontano sono lontano e no e no e così niente vai ok ci metto subito il segnale guarda qui è di là si si però l'ho presa strana ecco non ho altri modi per fammi vedere come cazzo si prende allora vetti ci metti dei bastoni eh dei lo prendo da qui spero si si sono dentro sono dentro eh questo è forte eh questo è forte ci sono fatte? si però tutti cento per cento da magia dai va il capitano subito verrà il potenzialmente ciò 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 è questo capitano è uno 62 se volete buscà quello non si è accorto di niente se ti accorgi eccola qua c'è già il potenziamento assassino eh oh no il colosso beh ora non ti vedi ti dici eccola qua i su sono un passo dalla conoscenza 3 eeeh questo per forza allora sei gerioso e nemmeno ti fa niente guarda perfetto bravo fai il bravo vabbè ma è meglio che ti ammazzo insomma vediamo se questo mi ci porta la conoscenza 3 cristo per un zuffe aspetta vabbè ma le ammazzo se proprio tesoro c'è una torcia ip no si lo faccio dai ammazzo anche questo eeeh il tesoro è lì l'ho già visto però non lo è colosso farebbe male però eh l'ultima torcia ip no eccola qui eh qui attiro il colosso allora lo farò per ultimo sennò mi attivo questo colosso lo attivo e scappo lo fai così eccola via torcia ipno e scappo perchè si attiva il colosso vabbè se mi viene da via guarda si attiva il colosso no non si è attivato ok siccome va ancora più su si siccome eeeh quindi viene da via dal luogo 823 siccome ormai guardo anche cos'è questo eeeh guardo cos'è questo queste case come mai non le ho cioè le ho trovate e non le ho esplorate eh non le ho esplorate su andiamo queste case non le ho esplorate allora andiamo a vedere che è l'ultimo punto interrogativo uno degli ultimi punti interrogativi e ho 21 alberetti e da blocchi da 21 ops chi è una cosa in fondo al mare? No, figurati, è qua, guarda, volendo me lo dice anche il Falco, cosa questa purtroppo non è una casa, oh, conoscenza però, conoscenza, eh sì, andiamo, andiamo, ce l'ha una barca, quello che serve a me, vai con questa, porto la conoscenza a level 3, e con questa me la dà sicura la conoscenza a level 3, e dai, qui punto 90, guarda, eccolo qui, questo lo puoi uccidere, lo puoi, eh, questo è già qui, no, questo sono io, questo sono io, ce la può fare una cosa veloce, qui non richiede il level 3, cioè non lo so, questo è, è uno così fai di cavolo su, a posto, a posto, non ti dice, a posto sono entrato, questo è l'ultimo sforzo, dai, vabbè c'è anche l'ingotto, vai, così fai, l'ingotto, tutto da sé, l'ingotto, conoscenza a level 3, eeeh, beh, a sto punto con il capitano a me ne può fregare, eccola va, allora, lì c'è uno, lì c'è uno, lì c'è uno, lì c'è uno, no, ce la fai a il bravo, se non ti ammazzo, è lì, guarda, e dai, e dai, e questo, ce n'era altre, fai il bravo, che dai, non era qui, allora, era più avanti, guarda, mi devi fare così, il resto mi sei bugato, così, il resto di te, era forte ma ce l'ho fatta, era un'altra, formazione con un'altra, non è un senso, non è un senso, non è un senso, non Bluetooth, anche se un protverse non è un senso, non è un senso, come se fosse un senso, non è un senso e tutti i dicti sono sempre tutte le reddelle che padello e tutti le che ho fatto danno a te, no, no, roba che, no, si, no, e lo vedi di sopra che c'è, dai, oh no, anche il colosso, ora ho perso il ritorno, però, eh, non ho più magia, non ho più, dai, ritorno, dai, ritorno, ho fatto un casino della madonna, era di sopra, porca puttana, a volte c'hanno quelle frecce da 100% damage, non avevo più magia, non avevo, un assassino non gli ho fatto il 100% damage, beh, da qui ho finito, però, da qui ho finito, di sopra c'era roba, era ultra protetta, andiamo, sono tutti all'erta qui, sentimi, fai vedere da dove cazzo me l'hai ridato, ho quasi fatto, avevo detto voi, eh, dai, lo riprendo da qui, Cristo, però, non ti salva istantaneo in questi fuori, ma, qui ho finito, scusa, sì, ho finito qui, non mi dai dettagli del luogo, lingotte, guarda, prendi questa barca, è qui, ho finito, però, madonna, è vero, salto, è finito, mi ha registrato la fine, è vero, è vero, è vero, ce la potevo fare, dai, ci devo tornare, perché non ce l'ho fatta, oh no, questa te la mette, come cazzo la giri questa, secondo te, perché te la metti di muso all'incontrario, io non capisco, perché te la metti di muso all'incontrario, e dai, andiamo a prendere sta roba, eh, lì dentro, purtroppo, sono morto, dov'è questa roba, che lì c'è, di rimanare di là? beh, dove è sta roba? Ho fatto un altro giro, dai, stesso giro di prima, stavolta, mi cercheranno, devo fare attenzione, beh, di sotto ho completato, scusa, di sotto ho completato, prima ero, sì, penso ho completato, e non me l'ha, cioè, qui non mi ha salvato, io credo di sì, perché ho tutto, la conoscenza, o il perché non mi dice, che, credo mi ha salvato, Cristo, ho la slide, quasi al massimo, arancione, allora, se vai prima di sopra, è meglio, però di sopra, allora, e, eccola qua, guarda la osa, che cazzo fai, ti devi solo abbassare, qui c'è un colosso, allora, questa è qui, ok, ok, sì, credo mi ha salvato, perché, perché, ti ha detto che, era da un'altra parte, dove ti ha detto, era di, di là, questo non si ammazza, che corina sta andando, però, questo, a posto, a posto, ora è morto, col cento per cento, domani, non mi ha sentito nessuno, c'è sta faccia di cazzo, di colosso, prendi sta roba, vabbè, ora con questa, un po' fa niente, vieni che non finisce, vabbè, mi è rimasto attivo, dai, prendi sta roba, vediamo se, conoscenza 3, ho perso, il fortino di prima, l'ho completato, non me lo segna, ora perché sono morto, conoscenza livello 3, perfetto, ho finito la missione, quell'altra, perfetto, la missione, è quell'altra, faccio anche questo, mi levo dai coglioni, ok, ho completato, ma quell'altra missione, ovvero, raggiungi la conoscenza, level 3, che è quella conoscenza, mi fa aprire, basta, 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 quello è spento, allora, mi manca anche l'ingotto, guarda, io quasi, quasi lo cerco, eh, lo cerco, però, è lunga, vabbè, qui ho finito, mi devo spostare, mi devo spostare, l'allarme, questo cane, qui c'è altro, qui c'è altro, qui c'è altro, vabbè, io ho finito con la conoscenza, ho finito, guarda, ce l'ho, a più non posso, voglio il l'ingotto, il l'ingotto, eh, dai, tocca uccidere tutti, se vuoi l'ingotto, mi manca anche quel l'ingotto, dai, andiamo a uccidere tutti, e... e... P immune! Tanto mi difendeva qualcosa Eccolo qua il lingotto, no, ancora non è il lingotto, il lingotto ti dice qui dentro io lo devo trovare, però, siccome ho fatto fuori tutti, o quasi, guarda, qui non ero andato, Cristo qui non ero andato, no, il lingotto non te lo ho fatto trovare, eccolo, vuoi che dici, te lo ho fatto trovare, tu, due, perfetto, tre, tre, crea un'arma leggendaria postose, la torcia ipno, ho capito dov'era la torcia ipno, però mi deve segnare che l'ho fatto, se, vabbè, da dove, sembrava un colosso, la torcia ipno era di sopra, mi sa che non l'ho voluto fare, beh, qui ho finito, vabbè, qui ho scaricato tutto, eh, comunque la torcia ipno, se la voglio fare, vabbè, intanto andiamo via, se no non la fa, sì, veramente ho fatto tutte le missioni, guarda, mi rimane, mi rimane missioni, eccoci qua, dai, già ho fatto, i raggi di luce la fa offline, creo un'arma, ho finito tutto, e questa, se è obbligatorio, la fa offline, ho finito tutto, raggiunge la forgia, eh, l'iso level 3, eh, l'ho fatto, questo è level 3, che ora ci posso andare, vabbè, se solo XP, non mi servono, se solo XP, a questo punto non ci vado in quel fortino, che vuole, che richiede la conoscenza isola level 3, allora, dov'era, ma l'avevo vista, ho sognato, vabbè, ora mi posso fissare con la torcia ipno, eccola qui, guarda, eccola qui, vabbè, dai, andiamola a prendere, qua, vabbè, listo di te, ho fatto tutto, e ora me lo segna come salvato, e dai, sì, ma anche prima mi aveva salvato, perché se no non avrei, se no la conoscenza 3 non ce l'avevo, ora, eccola qua, allora, conoscenza level 3, guarda, conoscenza level 3, tutto ok, con la conoscenza level 3 ha detto, creo l'arma, allora, queste due sono obbligatorie, mi sa, per, guarda, la torcia ci può con un click, per finire il DLC, sono obbligatorie, queste due missioni rimanenti, devo prendere quella cavolo di armatura, uccidendo i capitani che, che vanno scovati, credo, siano nei fortini, scusa, eh, ora l'ho fatto, allora, ma poi anche quella donna mi ha detto, quando hai fatto tutto, raggiungimi, vabbè, qui facciamo assassino, dai, assassino, accesso comuni, inizio proprio con la forza, selezioni le configurazioni dell'arma ferriera, ma posso riscegliere ancora guerriero? Ma rifacciamo guerriero, ma tanto è la stessa cosa, scusa, guerriero l'ho fatto prima, perché poi mi rida questa missione, perché ho altre lingue, vabbè, capisco, l'arma guerriera me l'ha già data, mi rida la solita, ah, vabbè, forse ho sbagliato, ah, ma so infinite sta roba, quanti tip te ne dà tre, rimarrebbe la terza, ci fai una cosa, una volta assassino, una volta, ma no, questa figura, niente, dai, mi rimane, questa non finisce mai, fai le armi, allora mi rimane questa e questa, che le faccio offline, dopodiché tornerò con la parte finale, tanto fine parte attuale.